Nel 1960 il maestro Manzi sperimentava la didattica a distanza. Da allora siamo cresciuti tanto con voi. Oggi l'attività didattica in presenza è sospesa per aiutare il paese nell'emergenza coronavirus. Gli studenti imparano da casa. Grazie al lavoro e all'impegno di docenti, dirigenti, personale scolastico e delle famiglie. Anche restando a casa la scuola non si ferma.